Eccomi di nuovo qua, eccomi buonasera a tutti, stiamo per iniziare una nuova diretta Facebook per affari di famiglia, è giovedì 2 marzo, io sono sempre Massimiliano Fiorin, lo sapete perché questo poi è il mio profilo Facebook e come di consueto attendo un attimo perché iniziate a connettervi voi che seguite generalmente questa mia trasmissione sulla pagina Facebook del Popolo della Famiglia TV. Adesso stiamo per affrontare un nuovo argomento, vi chiedo voi che vi state connettendo per primi di darmi la consueta verifica riguardo alla qualità della redazione, aspetto come sempre un attimo per verificare che si forme un sufficiente numero di contatti perché poi questa sera abbiamo da parlare di qualcosa, forse un pochettino più complicata del solito, anche se mi rendo conto che tante volte non riusciamo mai a affrontare temi semplici, però questa sera dobbiamo parlare di qualcosa ancora un pochettino più complicata di quanto non lo sia al solito, quindi mi piace aspettare che siano tutti collegati in modo che possiate intervenire come al solito e come sempre aspetto, vedo che è arrivato il nostro Mirko, se ci sei Mirko dammi la consueta verifica della ricezione buona dell'audio del video e anche se ci riusciamo, ma dovrebbe partire questa sera puntualmente, della avvenuta condivisione sopra la pagina Facebook del Popolo della Famiglia TV. Good evening people, ci saluta Mirko De Carli in una conquistata dimensione di internazionalità che gli è sempre stata propria, ma che non sempre si manifesta in un modo così spontaneo e diciamo molto molto americano, sarà la vena trampista che lo porta a tutto questo e vedo che comunque nessuno mi dice niente riguardo al video e all'audio, quindi posso cominciare a entrare nel merito perché presuppongo che mi stiate vivendo e spero che la Poggio e Francesca abbiano già dato luogo alla consueta condivisione sulla pagina del Popolo della Famiglia TV. Allora, il tema di questa sera, la cecità verso il diritto tra omogenitorialità ed eutanasia, quindi già come capirete dal titolo dovrò fare i consueti sforzi per cercare di non apparire troppo professorale nel parlarvi di quello di cui vi voglio parlare, perché in fondo è, come dice il proseguo del titolo, una vecchia lezione razzingeriana che voglio riesumare, che tra l'altro diciamo così ho riesumato anche in un articolo che ho mandato oggi a Mirko, che se è ancora qui dammi un riscontro per farmi capire che ci sei, affinché poi venga pubblicato, dovrebbe essere pubblicato sulla Croce Quotidiano, credo che lo potrete leggere domani dopo domani comunque nei prossimi giorni sulla Croce, ed è un articolo che non è diciamo nuovo, perché proprio prende questa lezione razzingeriana per cercare di adattarla ai fatti nuovi di cronaca di questi giorni che ci richiamano la mente e dovrebbero richiamarti l'intelligenza, Ocfiorin sulla Croce ci dice Mirko, quindi vuol dire che sente quello che sta dicendo, deve richiamare la nostra intelligenza sul fatto che noi stiamo vivendo in questi tempi, in questi giorni dei fatti di cronaca apparentemente proprio sconvolgenti, assurdi, strani, difficili da capire, ma che ci richiamano proprio alla mente il fatto che siamo vivendo un'età di trapasso, un'età di trapasso che deve essere compresa con una certa intelligenza, purtroppo oggi nell'era dei social molto poco presente, almeno stando a quanto si vede, buonasera d'Arbo Parrini, sui social network e che però ha bisogno proprio di essere passata ad un vaglio critico che pochi riescono a fare e che noi del popolo e della famiglia invece cerchiamo sempre di realizzare, perché proprio mi riferisco ai fatti di questi giorni tra omogenitorialità ed eutanasia, come dicevo prima Emanuele Cimignoli parla di ritorno alla barbarie e ha ragione e saluto anche Ottavo Deluzio, questo intervento che ho tirato fuori per la Croce Quotidiana e che riprende come dicevo la vecchia lezione razzingeriana e proprio risale ai tempi della vicenda di Eluano Inglaro che tutti ricorderete, che è stato un caso nel quale, anche allora è stato un caso che ha avuto una grande risonanza mediatica e che ha instaurato un certo dibattito, ecco che vedo che il popolo della famiglia ha condiviso il mio video, ringrazio la Pongio, la Francesca, chiunque sia stata, comunque grazie per questo, stavo dicendo che al tempo della vicenda di Eluano Inglaro, una vicenda che già allora segnò profondamente l'opinione pubblica italiana che portò il dibattito sul tema dell'eutanasia, insomma all'epoca fu come un vero e proprio spartiacque per la coscienza di tutti noi, perché se ve lo ricordate quel fatto che appunto è del 2009, quindi ormai sono passati già diversi anni, anche se per certi aspetti può sembrare ieri, avvenne con una carica di tragedicità e con una carica di dibattito anche che si scatenò nell'opinione pubblica che oggi sembra essere effettivamente molto assente, oggi che abbiamo appena vissuto sia la vicenda del DJ Fabo, di questo giovane tetraplegico che appunto ha appena ottenuto il suicidio assistito in Svizzera grazie ad un interessamento mediaticamente molto enfatizzato da parte dei radicali, ma anche insomma non riguarda soltanto questo, oggi sembrano meno enfatizzate di fronte ai mezzi di comunicazione e anche tanti altri fatti che però come vedremo, parlando di questa vecchia elezione di Ratzingeriana, parleremo anche di questo discorso della omogenitorialità di questi due giovani, presumo siano giovani quantomeno, anche se poi non si sa di preciso se lo siano o meno, che hanno appena ottenuto l'iscrizione allo Stato civile grazie alla Corte d'Appello di Trento come entrambi papà di due gemelle ottenute, due gemelle o comunque due bambine ottenute con la paternità surrogata negli Stati Uniti o il Canada, ecco insomma tutti questi fatti di cronaca, torno al merito, ci fanno pensare, almeno a me hanno fatto pensare che in fondo quando cominciò la vicenda, si manifestò la vicenda di Luana Inglaro, c'era ancora una dimensione tragica in tutto questo, c'era ancora una comprensione di fondo da parte dell'opinione pubblica su quanto un tema di questo tipo così fosse tragico proprio per la coscienza civile del nostro paese, che oggi sembra essersi un po' perduta, tant'è vero che oggi siamo in un'epoca così di social network, ai tempi di Luana nel 2009 c'erano già i social network, ma erano appena arrivati Facebook, Twitter in Italia, quindi non c'era ancora tutta questa diffusione che abbiamo oggi e allora però sembrava che i commenti fossero meno banalizzati, soprattutto ci fosse, o quanto meno forse c'era già, ma si vedeva di meno tutta questa profonda intolleranza che oggi con i social emerge nei confronti di coloro che non vogliono accettare quello che sembrerebbe essere un principio ormai scontato, perché sembra ormai scontato che l'eutanasia, il Biotestamento, insomma tutti questi temi debbano arrivare all'approvazione di una legge che li renda più ordinari, che persone come il DJ Fabo, Fabiano si chiamava, mi sembra che fosse il suo vero nome, non debbano più andare in svizzera per ottenere quello che ci stanno reclamando come un diritto, ecco questo che viene reclamato oggi a gran voce con grande intolleranza, perché abbiamo visto che chi si oppone sui social network viene anche ad essere pesantemente censurato, all'epoca di Luana nel 2009 invece ancora appariva qualcosa di molto più controverso, tragico che divideva le coscienze e appunto, tornando un po' a bomba nel mio discorso, qui c'è Ottavo De Luzio che mi dice che il padre di Luana scrisse anche un libro, inventò la conferenza stampa solo la stampa mica, sì certo forse adesso avrebbe meno problemi, perché sembra che sia venuta meno completamente la stampa nemica, la cosa oggi sembra molto più banalizzata ora che si sta tornando in Italia a parlare di eutanasia e sembra anche, visto che è stato recentemente, calendarizzato di nuovo nel Parlamento la discussione di questo disegno di legge sul testamento biologico, cioè è subito stato ottenuto quello che i radicali volevano, enfatizzando la vicenda umana di Fabiano, allora sembra anche che qui si stia correndo il rischio, un rischio che non so se possiamo già darlo per scontato, ma insomma sembra molto più facile l'eventualità che si arrivi ad avere l'introduzione per legge dell'eutanasia nel nostro paese, così stancamente come se fossimo arrivati alla fine di un lungo percorso in cui ormai nel Parlamento non si può più trovare nessuno che sia in grado di opporsi o abbia anche soltanto voglia di opporsi, come se fosse qualcosa che ormai si deve tranquillamente concedere perché non se ne può più fare a meno, insomma. Ai tempi di Eluana c'era stata, dicevo, molta più drammaticità nel discorso perché se ricorderete, insomma ci fu una contrapposizione tragica addirittura perché non era mai accaduta una cosa del genere nella storia della Repubblica con il Premier, allora era Berlusconi che volle salvare Eluana, vi ricorderete, con un decreto legge che poi non gli fu firmato da Napolitano, Presidente della Repubblica, quindi una cosa assolutamente diciamo così, non dico se fosse tragica o un po' esagerata, però con grandissima tensione e già allora proprio quella tensione che oggi non si riscontra, oggi non si riscontra più, adesso qui c'è Ottavio De Luzza che ci dice alcune cose che ci nascondono sulla morte di DJ Fabo, mando un link nei commenti, ma appunto quello che volevo sottolineare in questa puntata di Affari di Famiglia è che proprio allora quella tensione che allora si trovava, che si riscontrava con un conflitto parlamentare tra il governo e il Presidente della Repubblica, oggi non si riscontra più né in questo caso né in tanti altri casi analoghi che però ci portano a far pensare che il nostro Paese ormai sia entrato come non soltanto il nostro Paese in una fase di cecità al diritto, cioè una fase nella quale ormai c'è una incapacità generalizzata da parte della coscienza, da parte dell'opinione pubblica di comprendere principi, criteri, valori che pure sono il fondamento di una civiltà giuridica, della nostra civiltà giuridica e di qualsiasi civiltà giuridica che possa definirsi voluta. La cecità al diritto è qualcosa che oggi sembra effettivamente riscontrarsi, non soltanto proprio per come il dibattito sull'eutanasia sembra dover passare quasi come una conquista che ormai non possiamo più evitare perché sembra assolutamente impossibile continuare a negare ancora troppo a lungo che il sistema sanitario nazionale si prenda a carico le spese di chi vuole suicidarsi come se fosse un sacrosanto diritto, tutto questo che sembra ormai essere avviato per una realizzazione sembra essere proprio la dimostrazione che ormai c'è un'incapacità collettiva di guardare ai principi che invece dovrebbero essere comuni e che comunque sono i principi che dovrebbero regolare tutta la nostra convivenza civile. Su questa vicenda si dice sì va bene, su quella del DJ Fab, oggi sembra scontato che dice ma come si può evitare di regolamentare con legge una cosa del genere, come si può rimanere ancora una volta solo noi italiani indietro a tutto il novero delle nazioni civili perché non consentiamo alle persone di poter fare quello che vogliono nel momento supremo della loro esistenza quando dovranno affrontare il fine vita perché in fondo è una cosa loro, non si vede per quale motivo dobbiamo proprio imporli di non poter morire come meglio credono. Questo è proprio il discorso che ormai si sente comunemente, lo vediamo nel chiacchiericcio da social e c'è una appunto cecità profonda della incapacità, saluto Anna Russo, di comprendere che in fondo queste cose non sono poi così scontate come sembrano ma sono proprio nell'incapacità di comprendere espressioni di una cecità che ci ha travolti tutti rispetto alle esigenze fondamentali della nostra civiltà, ai pilastri della nostra civiltà, non so se riesco a rendere l'idea, ma non voglio parlare poi solo di questo fatto dell'eutanasia, sono giorni in cui abbiamo visto che la cronaca ci dice che dalla Corte di Appello di Trento arriva questa sentenza che proprio certo la cronaca non può fare a meno di notare che in qualche modo è rivoluzionaria, ma lo nota soltanto perché sono le associazioni proponenti che spingono la notizia come se si trattasse di una conquista di civiltà che è quasi indegno che debba venire da un tribunale e che non venga dalla legge, il fatto cioè che due persone, una coppia che ha adottato, non adottato, ha importato, perché questa è la parola giusta, due gemelle dal Nord America, ottiene la possibilità di avere un riconoscimento giuridico per cui questi due bambini avrebbero due papà, una cosa che è anche difficile da spiegare proprio per quanto è assurda, ma che invece la stampa ce la sta presentando come se fosse qualcosa che in fondo è una conquista perché sembra che l'assurdità sia stata nella situazione preesistente, invece anche qui si sta nella cecità più totale nei confronti del diritto stravolgendo completamente un fondamentale assunto che comunque dovrebbe essere del diritto di famiglia e cioè che in fondo, se posso cercare di spiegare in termini comprensibili anche e non specialisti, allora dovrebbero essere i genitori per i figli e non i figli per i genitori, come posso dire per spiegarlo, tutto il nostro diritto di famiglia ancora oggi è regolamentato, nonostante che siamo in un'epoca di divorzismo, l'aborto e tutto quello che noi sappiamo che stravolge la visione tradizionale delle relazioni familiari, comunque rimane il principio per cui in fondo quella dei genitori verso i figli non è più una potestà ma è una responsabilità, il primato deve andare all'interesse del minore, tant'è vero che anche di recente è stata proprio modificato ulteriormente il nostro diritto di famiglia, è stata tolta qualsiasi traccia di quella che una volta si chiamava la patria potestà, perché proprio si voleva affermare anche simbolicamente che oggi non si può più parlare di poteri, di diritti dei genitori verso i figli, ma semmai si deve da parte del diritto parlare di diritti dei figli verso i genitori, quindi quella dei genitori verso i figli diventa, saluto Ramona Coltis, non più una potestà ma una responsabilità genitoriale e io che mi occupo di queste cose professionalmente vi dico che in effetti se noi andiamo a guardare tutte le sentenze, tutte le decisioni, tutto quello che si scrive e si dice nelle grandi questioni che si devono quotidianamente affrontare nella disgregazione della famiglia, separazioni, divorzi, tutte queste cose qua, vediamo che in fondo è quotidiano il discorso per cui bisogna puntare al cosiddetto preeminente interesse del minore. Eppure, cecità al diritto, ancora una volta, vediamo che in questo fatto, in questa sentenza della Corte d'Appello di Trento si ribalta completamente il principio ma lo si fa proprio nella incapacità di vederlo, perché cosa si è detto in questa sentenza della Corte d'Appello di Trento? Si sta dicendo che in realtà no, affermatevi tutti, non è più vero, quantomeno non può essere più vero in questo caso che in fondo quella dei genitori diversi figli è una responsabilità e non un diritto, perché si sta dicendo che in realtà se dei genitori omosessuali hanno il cosiddetto progetto di genitorialità condivisa nei confronti del figlio, allora questo dà a loro due il diritto di poterlo chiamare proprio figlio naturale, anche se sono due uomini o due donne, anche se questo bambino dovrebbe in teoria avere due papà o due mamme, cosa che insomma facciamo fatica anche a spiegarla proprio perché è comunque solo una finzione giuridica, ci può consentire di affermare quello che in natura non avviene mai, perché in natura non avviene mai, tutti abbiamo una madre e un padre, non esistono bambini che abbiano un padre e un altro padre o una madre e un'altra madre, ci potranno essere situazioni adottive, ma quello che ha voluto affermare la Corte d'Appello di Trento è l'instaurazione di una vera e propria finzione, una menzone giuridica, si dice fixio iuris, anche se poi il termine non viene utilizzato in questo caso perché proprio non si vuole far capire che si sta mentendo, ma si vuole anzi dire che in fondo si sta realizzando quella che dovrebbe essere un'evoluzione nel nostro diritto, ma un'evoluzione che proprio passa attraverso una negazione di quello che finora e tuttora dovrebbe essere il principio fondamentale, cioè che nella contrapposizione tra gli interessi e i diritti dei genitori e quelli dei figli dovrebbero prevalere sempre quelli dei figli, cosa che già non è assolutamente vera nella prassi per quanto riguarda tutta la questione del divorzio, perché sappiamo che in teoria, ve l'ho detto tante volte, in teoria si dovrebbe puntare all'interesse preeminente del minore, soprattutto in questi casi, quando i genitori si separano, ma poi in realtà non si dice, ma si fa perché tutti sanno che in realtà il vero interesse del minore sarebbe che i genitori non si separassero, però questo non si può nemmeno dire, perché in realtà il primo interesse tutelato è quello dei genitori separarsi e quindi il fatto che il figlio non voglia, come non vorrebbe quasi mai che i suoi genitori smettano di convivere, non viene tenuto minimamente in considerazione. Ecco, anche qui, anche in questo caso, quello che vi dicevo adesso della Corte d'Appello di Trento, si è cominciato a parlare di questo progetto di genitorialità condivisa, che poi in realtà è soltanto il desiderio di due persone, oltretutto che possono realizzarlo soltanto a suon di dollari, in questo caso, perché l'hanno comprato in America o in Canada il bambino, insomma questo progetto di genitorialità condivisa che loro fanno passare come qualcosa di sufficiente per poter essere registrati all'anagrafe come due papà, in realtà altro non è che una menzogna che viene autorizzata soltanto per legittimare un desiderio che è dei genitori, cioè degli adulti e non è certo soddisfatto guardando all'interesse dei piccoli. Spero di avere reso l'idea, cioè di avere fatto capire perché è un'assurdità che contraddice anche tutti i principi del diritto di famiglia, tutti i principi di civiltà giuridica che finora avevamo raggiunto, per cui in realtà si dovrebbero tutelare prima gli interessi dei minori nella famiglia e dopo quelli dei genitori. Solo per questo caso, lo ripeto, così della omogenitorialità si comincia a dire che in realtà i figli tornano ad essere una proprietà dei genitori, perché solo in questo caso è legittimato che i genitori se li possano addirittura comperare. Pensiamoci un attimo, io faccio soltanto un esempio per cercare di essere ancora un po' più chiaro, anche chi così non segue specialisticamente queste cose, riguardo a quello che ci sta dicendo nel tripudio generale della Corte d'Appello di Trento, ma pensate a un'ipotesi, perché poi sono cose che avvengono, che sono avvenute. Prima di dirvelo sento quello che dice Migani, che saluto, che dice che in effetti è un mondo ribaltato, ci stanno facendo imboccare una discesa vorticosa verso la disumanità. E ci dice giustamente Migani, anticipando quello che poi sto cercando di dirvi e che vi dirò dopo, Alberto Cerruti dice ben detto, non so se dice a me o Migani, ma è giusto che lo dica nei confronti di quello che sta commentando Migani, cioè che a rischio l'umano siamo ad uno snodo decisivo e con i fatti di questi giorni che sto io rammentando non siamo alla fine, siamo, dice Fabrizio Migani, ad un drammatico inizio. Un drammatico inizio che però, come dicevo prima, probabilmente nel nostro paese ha iniziato, lo dicevamo all'inizio, con la vicenda di Eluana Inglaro, perché allora sì che ci fu uno spartiacque nella coscienza del paese, ma adesso invece sembra che più che è un inizio siamo proprio quantomeno nel momento in cui lungo il piano inclinato la palla sta correndo sempre più veloce perché non trova più ostacoli e quindi può essere facilmente indirizzata verso gli esiti perché sembra che nessuno si accorga più di quello che sta succedendo, che è già in buona parte successo e in effetti dicevamo all'inizio cecità al diritto, come dice Ottavo Deluzio, si può considerare un minore come una merce di scambio senza neanche che nessuno si accorga più che è quello che si sta facendo. Un tribunale, in questo caso la Corte d'Appello di Trento, ti può dire no ma noi facciamo questa cosa non perché mentiamo o vogliamo dire qualcosa di inusitato, ma perché finalmente arriviamo a dare spazio ad un progetto di genitorialità condivisa, come dire l'interesse e il desiderio di due adulti che per soddisfare il loro interesse e non certo quello del figlio si vanno a comprare a peso d'oro sfruttando tra l'altro il bisogno di una donna dei bambini in paesi dove questo è consentito con la maternità surrogata che oltretutto in Italia sarebbe tuttora proibita. Tra l'altro dicevo prima, mi piace cari di rendere più chiaro il concetto della mistificazione che nessuno si accorge che si è fatta in questi casi dal punto di vista dei principi del diritto della convivenza civile. Voi pensate cosa succederebbe ancora oggi se venissero casi che poi in realtà sono anche successi e forse seppure in casi molto rari succedono ancora. Pensate a una coppia, non necessariamente una coppia omosessuale, ma una coppia eterosessuale di genitori sterili, di genitori che non possono avere figli ma che desiderano fortemente figli, ai quali il mondo moderno viene in conto cercando di legittimare il più possibile la fecondazione assistita, si è smantellata la legge 40, si è data la possibilità di avere la fecondazione eterologa, si è vista questa sfrenata corsa al soddisfacimento dei desideri come una conquista, ma pensiamo all'ipotesi in cui questi genitori sterili non possano neanche ricorrere alla fecondazione assistita, ma vogliono a tutti i costi avere i figli. Pensate cosa succederebbe ancora adesso, ancora oggi, se questa coppia decidesse, avendone la possibilità, è un po' difficile, ma poi in realtà sono anche successe cose di questo tipo, di andare o nel nostro paese, in una zona dove particolarmente ci sono delle situazioni di degrado, o anche in un altro paese dove possono farlo cercando di ottenerlo e di comperare, nel senso proprio vero della parola, il bambino che loro desiderano da una donna che non può mantenerlo e che accetta di darlo nello stato di bisogno in cui si trova. Trovano questo bambino e riescono, cose che poi sono anche successe, a farlo passare per loro figlio, oppure a riuscire, pensiamo che riescano in ipotesi a scavalcare tutti i controlli che ci sono sull'adozione, come ci dice Ottavio De Luzzi. Allora, cosa succederebbe? Cosa succederebbe se in un caso di questo tipo, di una coppia che vive con un figlio non suo che ha comperato da una donna nel nostro o in un altro paese, se poi questo fatto venisse scoperto? Se dopo qualche anno la donna che ha partorito il figlio riportasse alla luce quel fatto venendo a denunciare la cosa? Cosa succederebbe a questi genitori? Sarebbero, come dire, perseguiti perché è un reato gravissimo, non solo l'alterazione di stato civile, ma anche il sequestro proprio del bambino che è stato acquistato con un contratto che oggi la coscienza civile ci dice ancora prima che il diritto essere assolutamente nullo perché è contrario all'ordine pubblico e si dovrebbe proprio senz'altro in un caso di questo tipo fare il possibile per restituire il figlio alla madre che si è trovata costretta a cederlo. E allora, per quale motivo? Se questa è ancora la realtà giuridica soltanto perché in alcuni paesi è concesso tecnicamente il contratto di acquisizione dei figli con la maternità surrogata, deve essere possibile addirittura i tribunali ti devono concedere di essere iscritti perché così viene all'estero come due papà o due mamme perché c'è il progetto di genitorialità condivisa. È proprio l'espressione di una profonda cecità al diritto, come dicevo all'inizio e come alcuni di voi hanno già riscontrato vedendo i commenti che avete fatto. Però, appunto, se guardate il titolo, spero che sia riuscito a farmi seguire bene fino ad adesso, dicevo che c'è una vecchia lezione ratzingeriana che bisogna recuperare. Qual è questa vecchia lezione? Ratzingeriana perché è qualcosa che scrisse Benedetto XVI, Josef Ratzinger, quando ancora era prefetto per la congregazione, per la dottrina della fede. Cosa dice Luca Rolfini? C'è più socialità, siamo chiusi, ci beviamo quel che ci danno in mass media, sono stufa di questi soprusi, dice Anna Russo, stiamo vivendo in un'archia piena dove chi più fa cose legittime è favorito, dice Anna Russo. Ma appunto è, come dicevo, che appunto non sono più nemmeno illegittime, è quello, il comando alla magistratura ti rendono legittimo quello che se lo facessero, diciamo, come vi dicevo prima, con un contratto di andare a comprare un figlio da una donna che glielo vende, insomma sarebbero perseguiti e comunque nessuno, ripeto, in un caso di questo tipo verrebbe a dirti no, lasciamoglielo il bambino perché avevano un progetto di genitorialità condivisa. Voi pensate che serve possibile a una coppia che fa quello che dicevo prima, tenersi il figlio che hanno acquistato da una povera donna, diciamo, ma tanto hanno un progetto di genitorialità condivisa, magari il bambino è stato comperato che aveva sei mesi, adesso cinque anni, ormai gli chiama papà e mamma, cosa facciamo? Le lo togliamo? No, c'è la genitorialità condivisa. No, in questo caso, con ogni probabilità, visto che sarebbero messi quantomeno in galera due genitori che fanno una cosa del genere, è ovvio che il bambino si cercherebbe, seppure con le cautele del caso, di restituirlo alla madre naturale, se questa lo pretendesse. Però, insomma, adesso questo sembra che, insomma, vale in un caso di questo tipo, non vale più se la genitorialità condivisa viene a essere quella di chi si va ad acquistare il figlio in Canada. E allora, torniamo al discorso, scusate perché sto un pochettino divagando, ma seguo anche i vostri commenti. Cosa aveva detto il cardinale Ratzinger? Aveva detto qualcosa che è importante ricordare proprio in questo periodo, in cui sembra che in effetti stia avvenendo meno, diciamolo pure chiaramente, anche la presenza della Chiesa. Quando avvenne il fatto di Eluano Inglaro, quello di cui io vi parlavo all'inizio e che ho un po' rievocato, perché c'è un articolo che dovrebbe uscire domani, l'ha detto Mirko, sulla Croce Quotidiano, che ho scritto proprio rievocando quello che era successo all'epoca. Come vi dicevo all'inizio, ci fu come una specie di spartiacque nella coscienza collettiva. E la Chiesa allora era veramente ancora vista come soggetto che in qualche modo frenava, un po' come un catechon, per dirla in termini Paolini, tutta questa deriva. Era visto come il principale nemico per i laicisti che doveva essere sconfitto per affermare la loro nuova visione dell'uomo e della vita e della morte. Allora c'era questa opposizione profonda, che poi, come dicevo all'inizio, si manifestò anche in politica in una maniera molto drammatica, perché ci fu quella contrapposizione tra il governo di Berlusconi e il Presidente Napolitano, perché il primo volle fare un decreto legge per salvare Eluano e Napolitano non glielo firmò. Una cosa che oggi sarebbe assolutamente impensabile, perché oggi tutti i politici sembrano correre a dare la risposta legislativa sul Biotestamento, proprio perché c'è stato il caso del DJ Fabo e la Chiesa cosa fa di fronte a tutto questo? Pare essere anch'essa completamente silenziosa. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ne stiamo ancora parlando, c'è il Monsignor Paglia che ti dice che in fondo Pannella era un uomo che aveva una visione che sembrerebbe essere sostanzialmente cristiano, un uomo che ha lottato per un'Italia più giusta, sembra che anche la Chiesa non sia più un ostacolo rispetto a tutto questo, però allora all'epoca dell'Uana ancora questo succedeva. E cosa ci aveva detto, non in quegli anni, ce l'aveva detto molto tempo prima Ratzinger, Joseph Ratzinger che allora era ancora prefetto della dottrina della fede, che poi diventò Papa Benedetto XVI, che comunque anche da Papa cercò veramente di dire parole di condanna nei confronti di tutto questo, cercare di spiegare al mondo che cosa stava succedendo perché si ritornasse ad avere coscienza, prima ancora che spirito di contraposizione, di quello che stava succedendo nel mondo. Scrisse, appunto, e vengo al punto, il Cardinale Ratzinger che in fondo sembra che noi stiamo vivendo di fronte a questi fenomeni appunto un periodo che lui per primo chiamò di cecità verso il diritto, cioè di incapacità di sapere vedere da parte dell'opinione pubblica, ma anche da parte di tanti che invece col diritto ci lavorano e che sono i maestri che maneggiano il diritto per tutta la collettività, sono quelli che lo attuano, lo fanno vivere perché sono magistrati, perché sono parlamentari e quindi fanno le leggi, insomma c'è proprio una cecità di queste, un'incapacità di capire quali sono i principi fondamentali che sono veramente intangibili per affermare, scusate, per affermare criteri di convivenza civile. E Ratzinger disse che sì, stiamo vivendo un periodo di cecità al diritto, però non è la prima volta che in fondo la civiltà occidentale, anche la civiltà cristiana lì sta vivendo. Lui diceva, in fondo se ci pensate, lui aveva ben chiaro anche personalmente l'esperienza del nazionalsocialismo, no? Il nazionalsocialismo fu un'esperienza in cui collettivamente si visse una sorta di cecità collettiva di fronte alle esigenze del diritto. In questo articolo che ho scritto per la Croce Quotidiana, ho rievocato il progetto Action 34, quello di soppressione dei disabili, che fu proprio della visione nazionalsocialista, fu proprio realizzata a partire dal 1935 da Hitler, proprio perché riteneva che sì, fosse un'opera anche giuridicamente meritoria, arrivare alla soppressione dei disabili, cioè delle vite indegne di essere vissute, in una visione che però all'epoca appariva perfettamente giustificabile e coerente da un punto di vista giuridico, cosa che poi Ratzinger visse personalmente e appunto disse, sembra che effettivamente qui si sia manifestato nella modernità una completa cecità rispetto ai principi fondamentali del diritto su cui tutti noi fondiamo la nostra comune convivenza civile, ma non è neanche stata la prima volta, perché era già avvenuto anche altre volte, ricorda Ratzinger, nell'Occidente e nella modernità. Basti pensare a quello che era successo nel fine Settecento, quando appunto negli Stati Uniti si realizzò e divenne economicamente quasi insopprimibile l'esigenza dello schiavismo. Allora sì, c'è stata la guerra di secessione americana, però anche allora si pensava che lo schiavismo li portare ad importare manodopera nera dall'Africa fosse qualcosa di perfettamente giustificabile da un punto di vista giuridico. Si pensò che effettivamente fosse giustificato che delle persone potessero essere comprate e vendute come merci di scambio. E questo non è che avvenne in un'epoca antica, pre-cristiana avvenne, diciamo tra la fine del Settecento, prima dell'Ottocento, quindi in un tempo ancora vicino ai nostri. E poi insomma è avvenuto anche altre volte, pensiamo, andiamo un secolo dopo, nel XIX secolo, quando siamo nell'epoca fiorente del colonialismo. Anche allora si pensava che anche da un punto di vista giuridico la diversità strutturale, la supremazia bianca potesse essere pienamente giustificata. Così come oggi pensiamo che invece un'altra epoca di cecità del diritto possa essere pienamente giustificata una convivenza civile basata su questo individualismo assoluto e su questo predominio assoluto della tecnica per cui ogni desiderio può diventare diritto. Paparanzi a questo lo svelò. Lo svelò effettivamente in questo suo scritto memorabile in cui parlava di cecità al diritto tipica delle società occidentali e che insomma non è nemmeno una novità, no? È qualcosa che è già avvenuto, è qualcosa che abbiamo già conosciuto e questo, concludo, tutto sommato è anche un messaggio di speranza perché in fondo ci ricordava Paparatzinger e insomma mi permetto di ricordare anch'io citandolo, che in fondo poi alla fine i principi fondamentali dell'uomo, dell'essere umano, delle relazioni fondamentali, della convivenza civile hanno finito per essere riaffermati, hanno finito effettivamente per prevalere perché comunque la civiltà ha sempre prevalso, c'è una sorta di buonsenso naturale delle gente che poi fa sì che queste cose alla fine non riescano mai a diventare veramente completamente un nuovo senso comune e quindi c'è qualche motivo di speranza, c'è anche motivo di ritenere che in fondo il buonsenso naturale delle gente faccia sì che poi queste derive che stiamo commentando non potranno mai arrivare veramente fino agli estremi esiti, non si potrà arrivare fino in fondo ammesso poi che un fondo ci sia e questo perché comunque c'è un buonsenso naturale delle persone che ti fa veramente capire dove sta veramente la verità, dove stanno i principi fondamentali del diritto dell'umanità, della convivenza civile e alla fine questi non possono far altro, non potranno far altro che ritornare e salvarci un po' tutti quanti, quindi davanti a noi comunque c'è la possibilità di ricostruire una società dove si comincia ad avere nuovamente chiaramente l'idea di che cosa sia essere uomo, essere donna, essere figlio, essere famiglia, di che cosa sia il principio della sacralità della vita umana, della necessità del suo rispetto dall'origine alla morte naturale e dell'esigenza di affermare una vera idea di libertà. Cosa mi dice Alberto Ceuti? Mi ringrazio per la chiaretta, questa diretta merita di essere vista il più possibile, lo ringrazio perché se dice così vuole dire che sono riuscito anche a spiegarmi perché poi effettivamente parlando di un pubblico indifferenziato tante volte ho paura di essere così un po' troppo complicato, però appunto ringrazio e vi stavo dicendo che c'è questa speranza, c'è questa speranza che già Papa Ratzinger parlando di queste cose faceva presente, la speranza cioè che poi alla fine nonostante qui tutto sempre perduto comunque ci sia un buon senso naturale delle persone che ci riporterà a una nuova società o meglio una società non nuova ma una società rinnovata in cui questi principi fondamentali torneranno a avere la dovuta considerazione perché semplicemente ci si renderà conto che sono il meglio della civiltà umana, sono gli unici principi che veramente rispettano la verità di fondo sul nostro essere uomini, donne e sul nostro essere società che non è una semplice sommatoria di individui ma è espressione di una comune appartenenza anche culturale senza la quale nessuno di noi può veramente vivere. Ora, scusate ancora, questo messaggio che è un messaggio che in qualche modo ci dà speranza non toglie che effettivamente si debba comunque combattere una battaglia. Oggi diciamolo chiaramente anche la Chiesa tante volte sembra sete, sembra avere diciamo non più voglia di essere catecone, di essere soggetto che tiene ferma la barra. Sembra che ormai effettivamente si sia dato per scontato che in fondo questi principi che si vogliono affermare siano principi giusti anche da un punto di vista ecclesiastico. No, qui Migani cosa ci dice? I fatti di questi giorni ci forniscono anche la misura della gravità di certe affermazioni da parte di qualche altro prelato. L'affermazione di Paglia è circa lo spirito di Pannella. Ecco, ringrazio Migani perché lui lo dice molto più autorevolmente di quanto non possa fare io ma del resto ce lo stiamo un po' dicendo tutti. Se Cappato, che è il leader radicale, che incarna ed interpreta la perfezione, quello spirito e quella lezione, ci dice, dovesse subire conseguenze di legge per Paglia, per aver accompagnato un uomo, cioè Fabiano Antoniani a morire, diventerebbe un martire? Ci rendiamo conto della confusione che si può generare quando si perdono certi veri riferimenti? Ecco, faccio mio questo grido scandalizzato che è di un autorevole interprete della nostra realtà, quale è Fabrizio Migani, ma lo faccio mio anche perché poi è un po' il sentire di tutti, rispetto a questo cerco di dare un messaggio di speranza. È avvenuto anche in altre epoche, come vi dicevo prima, lo diceva lo stesso Papa Ratzinger, che anche nella Chiesa, anche da parte di uomini di Chiesa, si sia verificato questa specie di blackout, questa specie di cecità collettiva nei confronti del diritto. In fondo nel Settecento, fino al Settecento, c'erano tanti uomini di Chiesa che dicevano che lo schiavismo negli Stati americani avesse una giustificazione anche etica e giuridica, così come lo aveva il colonialismo, così come per la Ciotuli, ecco, non lo ebbe però per la Chiesa il nazionalsocialismo, perché qui effettivamente era più chiaro che il nazionalsocialismo si ispirava a delle dottrine di carattere pagano, per il cristiano, che non sono accettabili per la civiltà cristiana. Insomma, oggi sembra che anche nella Chiesa ci siano persone, in questo Monsignor Paglia, che giustamente scandalizza non soltanto il nostro miglior, insomma, scandalizza tutti noi. Leggevo prima sulla bussola quotidiana che c'è un nuovo libro scritto da un politico francese che, appunto, dovrebbe intitolarsi, se non sbaglio, da Lepanto a Lesbo, che c'è proprio lo scoraggiamento di chi viene in questi giorni nel vedere che la Chiesa, che già in età moderna fermò l'affermazione ottomana con la battaglia di Lepanto, oggi sembra avere uno spirito completamente contrario, sembra non considerare minimamente la possibilità di contrapporsi, di porre delle domande rispetto all'invasione migratoria che dovrebbe essere dai cristiani accettata senza domande, senza obiezioni, come un'esigenza rispetto alla quale poi invece in realtà i cristiani, i fedeli comuni, si sentono veramente spaventati e spaesati. Questi ultimi non si danno risposte perché sembra che l'unica risposta da dare da parte della Chiesa sia nel senso dell'accoglienza dei migranti e sui temi etici si parla soltanto di accompagnamento, lo dicevamo ieri, anche se non sappiamo accompagnamento, poi verso dove. Ecco, questa vecchia lesione e penso di poter arrivare alla fine di questa diretta, anche perché ci stiamo avvicinando alle 7 di sera, se non avete altri commenti che provvederò senz'altro a leggere, la conclusione però vuole essere di speranza, come era di speranza quel vecchio intervento dell'allora cardinale Razzi che appunto ci parlava di questa cecità al diritto ma ci diceva anche che in fondo è già successa e questo non toglie che poi possa ricominciare la vera consapevolezza collettiva del diritto ad affermarsi. Certo, per affermarsi bisogna che ci siano persone, questo è lo spirito, la missione di noi che facciamo queste cose, che facciamo anche un'azione politica col popolo della famiglia, ci vogliono delle persone che sanno comunque tenere la barra dritta, non cedere alla mentalità dominante, non cadere in questo tranello di cecità collettiva al diritto, di non smettere di affermare che comunque non si può assolutamente pensare che quello che ci stanno cercando di far passare per un principio di civiltà sia tale, perché non lo è, perché ne è la negazione, ci vogliono persone che hanno ancora il coraggio di dire forte e chiaro quello che ormai nessuno, così nei medi ufficiali si sente più in diritto di poter affermare perché diventa addirittura un'affermazione scandalosa, perché adesso diciamo così, fare un parallelo tra l'eogenetica nazista e quello che è successo con la vicenda del DJ Fabo ti procura, come è successo al nostro Mario Di Nolfi, addirittura delle censure via Facebook, nel senso non puoi più parlare perché sono cose che non puoi più dire, perché sarebbero quelle le cose contrarie ai principi fondamentali della convivenza civile, no, in realtà è il contrario e quindi anche nella delusione per i discorsi sconcertanti, che fanno certi uomini di chiesa, nell'apparente silenzio e addirittura connivenza che sembra venire addirittura proprio da parte delle gerarchie ecclesiastiche, ci vuole chi sa comunque rimanere in piedi nella tempesta ad affermare dei valori che poi comunque rimarranno al fondamento della civiltà che verrà, non solo per i nostri figli, ma per i nostri nipoti, per tutto il nostro futuro, perché comunque la cecità diritto di cui abbiamo parlato finora non riuscirà a prevalere, i principi fondamentali della nostra civiltà, i principi della sacralità della vita e della naturale forma delle relazioni umane, uomo, donna, famiglia, padre, figlio, questo che viene, comunque dovrà finire per prevalere, anche perché in fondo siamo in un'epoca di decadenza, di grande crollo demografico, ma ne abbiamo già conosciuto. Qui cosa mi dice Rosa Eleonora dell'Espot, oggi sembra che la società sia cecata, è vero, proprio per questo ci vogliono persone che effettivamente sappiano tenere dritta la barra. Anna Russo ci dice che sentire il Papa sulla radio radicale è tutt'altra cosa di quello che dicono e fanno alcuni vescovi sacerdoti, sì c'è confusione, adesso a parte l'orario non ci addentriamo in questo perché se no rientriamo anche in tutte quelle polemiche che un po' ci dividono anche tra noi cattolici perché di fatti c'è chi appunto non si capacita di tutto questo e effettivamente se la prende con chi se la prende a sua volta con gli ecclesiastici, però insomma non entriamo in questo, però in fondo c'è un sentimento comune, Migani lo ha detto molto bene prima commentando le affermazioni di Monsignor Paglia relativamente a Pannella, insomma è qualcosa che effettivamente tutti abbiamo presente anche se non lo diciamo, però come vi ho detto fino ad adesso e vado a concludere, aspetto che ci siano eventualmente altri vostri commenti, ne parlerò, quello che vi ho detto fino ad adesso è un messaggio di speranza, ne parlerò anche domani se dovesse essere domani, se il giorno della pubblicazione in un articolo che comparirà sulla Croce Quotidiana in cui proprio riprenderò i temi che oggi ho voluto affermare con voi e che ho voluto affermare qui anche un po' per continuare a dare ragioni della battaglia che stiamo conducendo, sia pure in un grande solitudine, perché noi parliamo qua sulle dirette Facebook ascoltate da 500 persone quando invece loro sembrano avere dalla propria parte tutti i grandi mezzi di comunicazione, però insomma questo nostro lavoro certosino si può giovare di una speranza profonda, della speranza cioè di avere la capacità di non cedere a questa cecità al diritto che comunque dovrà prima o poi finire, perché in fondo era già avvenuta nel corso della storia e quindi che finirà anche adesso, sia pure dopo senz'altro inenarrabili problemi che ha creato nel mondo, ma insomma possiamo sperare che in fondo anche questo finirà. Bene, vediamo se ci sono altri commenti, scusatemi se no passo a salutarvi, penso effettivamente che voi ci siete ancora, perché vedo che siamo ancora in diretta con diversi di voi, penso di essere arrivati in fondo, come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino adesso, vi ringrazio anche per i commenti che avete fatto, leggete la Croce Quotidiano, oltre all'intervento mio cercate di sentire anche quello che dicono gli altri e di continuare a seguire queste dirette Facebook che stiamo facendo. Rosa Eleonora delle risposte mi dice, mi ringrazia delle parole di speranza e augura buona serata come io la sto per augurare a voi, ma vi raccomando, vedete io sono qui che sto parlando davanti ad una telecamera, so che sono poche centinaia le persone che mi ascoltano e sappiamo di avere un ascolto che non è minimamente paragonabile per il momento rispetto a quello che effettivamente vediamo, però sappiamo anche che effettivamente noi stiamo continuando a lavorare per una civiltà che dovrà comunque tornare a recuperare quei principi fondamentali che oggi sembrano perduti. George Minami commenta dicendo che l'enorma bugia volta a sostenere che ora non ci sia la libertà a suicidarsi, quando invece tutti abbiamo bisogno di storie familiari di persone accompagnate nel silenzio e con discrezione. Lui dice che è figlia questa bugia dell'approccio collettivista secondo cui non c'è alcuna libertà che non sia espressamente contemplata in una norma scritta. Sì, certo, effettivamente c'è una visione, ce lo dice George Minami, che qui effettivamente stiamo vivendo in una civiltà in cui sembra che effettivamente ci voglia la norma scritta e ci voglia la sanzione dello Stato per affermare certi principi come principi di vera libertà. In realtà poi lo Stato tante volte non è come ci sta facendo capire il garante della libertà, ma anzi è il principale soggetto che in effetti limita la libertà di tutti noi. È un po' un conflitto anche tra visioni continentali dello Stato e una visione anglosassone. Una visione anglosassone in fondo lo Stato è sempre l'arbitro della libertà dei privati, mentre invece noi a livello continentale abbiamo quest'idea più statalista dello Stato come soggetto che dovrebbe essere non tanto arbitro di libertà naturali, quanto come il creatore della libertà ed è comunque una grande bugia perché in fondo lo Stato è più limitatore di libertà, specialmente in questi casi di quanto non ne sia garante, però insomma è vero, adesso non entro proprio in questo discorso, magari ne parleremo un'altra volta perché siamo giunti alla fine. Effettivamente mi dice Ottavo De Luzza che anche lui ha avuto da discutere sul libero arbitro e in fondo il discorso del libero arbitro ci rimanda a questo grande problema della libertà e di come lo Stato, inteso come principio regolatore della convivenza civile, possa essere o meno garante della libertà anziché, come invece tante volte l'ha detto anche George Minami che adesso mi fa i complimenti e lo ringrazio, invece di essere invece il primo soggetto che la libertà vera, la libertà delle persone la sopprime o addirittura la rende impossibile nel suo esercizio. Non vado avanti, ringrazio Minami per il complimento che mi ha fatto riguardo al pragmatismo che avrei, questo pragmatismo impone che adesso veramente vi vada a salutare perché in effetti se no mettiamo davvero troppa carne al fuoco ed è sempre complicato spiegare questi temi, vi stavo dicendo che non ci spaventa più di tanto il fatto che adesso poi ci saranno secondo i dati che ci rende Facebook 400-500 persone che seguono questa diretta, quelle più seguite, l'attualità politica ne hanno qualche migliaio, ma insomma non è un numero paragonabile a quello della società di massa, però effettivamente, grazie a Narusso che mi dice che c'è anche un audio ottimo, noi sappiamo di essere consapevoli di stare seminando per il futuro, seminando per il futuro però anche nel presente, anche nel presente perché è la battaglia che stiamo conducendo, anche se è battaglia di minoranza, è una battaglia che insomma nasce nel presente e si fa verso il futuro. Vi ringrazio, penso di non avere nient'altro da aggiungere, per questa volta poi avete sollevato molti temi anche voi che meritano una trattazione più approfondita, cercheremo con il pragmatismo di cui mi ha dato atto George Minami di affrontarli in una futura trasmissione, sperando appunto di riuscire a trasformarli in qualcosa che ci dia a tutti quanti gli strumenti per essere meno coinvolti da questa cecità rispetto al diritto della quale abbiamo parlato fino ad adesso. Vi ringrazio dunque, ringrazio tutti voi, particolarmente quelli che hanno fatto anche dei belli interventi in questa diretta per avermi seguito fino ad adesso e vi do appuntamento, come dicevo ci sono altre trasmissioni del Popolo della Famiglia TV da seguire, c'è la Croce Quotidiano che mi invito ad acquisire, domani ci sarà quell'intervento di cui vi dicevo prima che riprende queste cose che ci siamo detti anche stasera, ma ci sono tanti tanti altri momenti che potete seguire sul Popolo della Famiglia TV, sulla Croce Quotidiano e in generale seguendo la nostra azione politica e anche la nostra azione culturale della quale poi insomma noi qui vi stiamo dando soltanto delle specifiche applicazioni e degli specifici riflessi. Grazie davvero, ci risentiamo alla prossima occasione, continuate a stare con noi, grazie per la pazienza con cui mi avete seguito e appuntamento alla prossima puntata di Affari di Famiglia diretta Facebook per il palinsesto del Popolo della Famiglia TV. Grazie a tutti e buona serata.